Sabato 10 giugno 2017. È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Diana, Olivio e Olivia. Accadde oggi. Il 10 giugno del 2003 il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, missione ancora in corso su Marte. Dei due rover gemelli Spirit e Opportunity, quest'ultimo è l'unico tuttora in funzione. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo lo stilista Elio Fiorucci, nato a Milano il 10 giugno 1935. La citazione del giorno. Vergognarsi della propria immoralità è un gradino della scala, al termine della quale ci si vergognerà anche delle proprie moralità. Friedrich Nietzsche. Dice il saggio. Nutri un corvo e ti caverà un occhio. Proverbio russo. La parola preziosa. Avete per caso un vicino che incontrate ogni mattina e vi guarda male facendo fatica a salutarvi? Diteli di togliersi quella mutria. La mutria, infatti, è una faccia cegliata, con un'espressione priva di simpatia o per malumore o per alterigia. In uso meno comune indica sfacciataggine. Ad esempio, ci vuole una bella mutria per dire certe cose.